Rilevatori elettronici di velocità sulla statale Perbiceglie. A Trani entrano in funzione dal 15 luglio i Velobox e i dissuasori con una serie di dispositivi elettronici volti a garantire la sicurezza in strada, principalmente interessata a zona matinelle in una stagione estiva in pieno svolgimento che chiama raccolta un'affluenza importante in città. Abbiamo voluto mettere in sicurezza un'arteria stradale importante, soprattutto in questo periodo visto chiaramente il particolare afflusso balneare legato alla balneazione. L'abbiamo fatto attraverso un sistema anche importante di Velobox che verranno attivati nei prossimi giorni. Molto interessante soprattutto la tipologia di segnaletica che abbiamo utilizzato che non soltanto rileva in quel momento la tua velocità prima che arrivi al Velobox ma soprattutto già indica anche se la stai superando i punti della patente che ti verranno sottratti. Lo abbiamo fatto perché noi non vogliamo sanzionare l'automobilista, non vogliamo assolutamente vessare nessuno, non abbiamo bisogno di queste risorse per i nostri bilanci, noi vogliamo che ci sia sicurezza stradale, vogliamo la prevenzione, far capire ai cittadini che va rispettato quel limite di velocità e lo facciamo per i nostri ragazzi, per i nostri figli, per noi stessi, per la sicurezza di tutti noi. La sicurezza non sarà soltanto stradale, il nuovo presidio di vigilanza armata si occuperà di sorvegliare la villa comunale anche oltre l'orario di chiusura in modo da scongiurare danneggiamenti al patrimonio architettonico e al verde pubblico.